Sono stato a Sonnino, ho assistito una candidata sindaca con una faccia molto aperta e poi ho sentito il candidato che le si oppone, un candidato di sinistra che mi ha fatto pensare delle cose lontane in un tempo primitivo con un pubblico rustico e plebeo che ascoltava grugnendo in modo improprio e quindi ho detto che posto strano, mi sono un po' impaurito insomma, adesso io mi auguro che sono...